Se mi chiedete cosa è stato per me l'oratorio, vi posso rispondere sinceramente che è stato un punto di riferimento fin da quando ero piccolo. Ricordo molto bene il campo da calcio e i giochi con i miei amici, soprattutto anche al bar, come ad esempio il pincanello, il bigliardino, classico bigliardino, oppure il ping pong. Ricordo inoltre molto bene il sabato in cui si partecipava al catechismo e era l'unico momento, forse uno dei pochi momenti, che ti faceva pensare che anche Dio è presente in questa struttura e è l'anima di tutto questo. Inoltre un'altra cosa che mi ritorna in mente è l'estate trascorsa in oratorio, dove si partecipava al GREST e ci si dimenticava totalmente della scuola e si pensava solo a divertirsi e a stare insieme con gli altri ragazzi. Perché ragazzi il riassunto di tutto questo è che l'oratorio siamo noi. Grazie a tutti!